Da quella frase, amici, si evince che Noemi Bocchi non vuole assolutamente aspettare, quindi tra Ilari Blasi e Francesco Totti il matrimonio, si sa, è finito. Male a quanto pare e per ora la palla passa al balzo all'altra, ovvero la Flower Design, che avrebbe rubato il cuore del pupone ormai più di un anno fa. Qualche giorno fa, mentre la presentatrice si trovava in vacanza con la figlia più piccola, l'ex calciatore è stato proprio beccato a San Felice Circeo, proprio dalla sua Noemi. E non è nemmeno la prima volta che è stato scoperto che Totti, sotto casa di Noemi, è stato lì, insomma, per andare a trovare lei e proprio per questo motivo pare che Ilari Blasi sia diventata proprio una furia, come era già accaduto in precedenza, tra l'altro pochi giorni prima dell'annuncio ufficiale della coppia che andava a delineare il fatto che insieme non ci stavano più. Come riportato da alcune testate giornalistiche, tra moglie e marito c'era una sorta di accordo, accordo che Francesco non ha rispettato però, perché è stato paparazzato sotto casa di Noemi prima della pubblicazione dei comunicati stampo ufficiali, invece l'accordo diceva proprio tutto il contrario, cioè che non si doveva fare prima di una certa. E visto che di accordi si parla, salta fuori un altro accordo che ci sarebbe tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, l'ex capitano giallorosso non potrebbe ancora ufficializzare la relazione con la giovane romana, ma perché? Perché è stato detto che i due avrebbero un accordo segreto, ma sembrerebbe esserci un accordo segreto tra Francesco Totti e Noemi. Loro ufficializzeranno il rapporto solo quando Totti sarà ufficialmente separato da Ilari Blasi. Non prima di quel momento. Le pratiche del divorzio non sono state ancora abbiate e in ballo c'è un patrimonio non indifferente, per questo la situazione non è facile. E quindi bisognerà aspettare veramente l'ufficialità della situazione, ma pare che, visto come stanno andando le cose, ormai Noemi Bocchi vorrebbe uscire allo scoperto e alcuni amici della giovane romana lo avrebbero confermato al settimanale di più, che quindi già è a conoscenza di questo. Eh sì, Noemi non si considera la causa scatenante della rottura tra loro due e vorrebbe uscire allo scoperto, questo si legge. Smettere di nascondersi, anche perché la loro relazione non è soltanto un flirt, ma qualcosa di più importante. E nel pieno di questa tempesta Francesco ancora non se la sente di vivere alla luce della relazione con Noemi, anche perché all'orizzonte c'è in confronto il tribunale con Ilari per la spartizione del loro cospicuo patrimonio. Tanto, signori, a prescindere da tutto quello che possono dire, sicuramente a livello legale dovranno andare avanti, quindi andremo a capire anche in che modo verranno spartite le cose e chi prenderà di più, chi prenderà di meno, ma comunque sia queste cose dovranno comunque farle. Io vi ringrazio per l'ascolto di questo nuovo aggiornamento, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata a tutti, noi ci becchiamo alla prossima come sempre qui su Pausa Caffè.